queste sono semplici istruzioni per poter partecipare alla videoconferenza con MIT allora ci sono due modi per poter entrare nella videoconferenza un modo è ricevere e quindi poi rispondere alla mail che ti arriva arriva una mail con un nuovo evento, video lezione, ti viene specificata la data e l'orario è molto semplice perché quando arriva il momento giusto non fai altro che cliccare sul link che ti viene dato ed entri nella chat un altro modo è attraverso il calendario della tua classe se tu entri nel calendario della tua classe vedi che è segnato nella casella l'evento con l'orario allora non si deve fare altro che cliccare sull'evento, ti si apre questa finestra e anche in questo caso viene dato un link, è sufficiente cliccare su questo link e si entra nella chat allora cosa significa entrare nella chat? è presto detto ti trovi una schermata di questo tipo e ti vengono chieste due cose fondamentalmente subito all'inizio se vuoi attivare la videocamera, se vuoi attivare il microfono allora il microfono devi attivarlo per forza perché altrimenti non puoi partecipare parlando direttamente la fotocamera è una tua scelta nel senso che se tu rendi attiva la fotocamera si vedrà il tuo viso nel riquadro del computer dello schermo del computer di tutti quelli che partecipano alla chat se invece non vuoi farti vedere basta dirgli di no e si sentirà soltanto la tua voce qui puoi vedere chi si è già collegato ovviamente questa è una prova per cui è evidente che non c'è nessuno altrimenti qui si possono vedere i nomi di quelli che sono già entrati nella chat bene, una volta che hai deciso cosa fare di microfono e fotocamera devi anche qui cliccare semplicemente su partecipa alla riunione e questa è la schermata che ti si presenta allora, in questo caso io ho scelto di disattivare la fotocamera per cui hai una schermata scura al centro di questa schermata il simbolo del tuo account quindi quello che sei abituato a vedere quando entri in Classroom oppure in Drive eccetera in alto qui ci sono dei simboli vabbè, questo è il simbolo del tuo account questo invece ti dà l'elenco delle persone che stanno partecipando alla chat quindi se tu clicchi su qui ti si apre una finestra e c'è l'elenco il numero delle persone si aggiorna man mano anche senza bisogno di aprire la finestra se invece si clicca sull'icona di fianco quella della chat si apre la finestra della chat è una finestra che occupa tutta la schermata in fondo trovi uno spazio su cui è possibile scrivere quindi puoi fare le tue domande puoi fare le tue osservazioni questo lo puoi fare anche mentre l'insegnante o altri tuoi compagni stanno parlando tanto poi l'insegnante alla fine guarderà la chat e quindi avrà modo di rispondere alle tue domande e a quelle dei tuoi compagni allora queste sono le come dire le istruzioni base le altre le vedrai direttamente quando sarai collegato in chat grazie a tutti